9. La prima udienza con il re. Quel fatidico pomeriggio del 3 aprile, Anna si vestì con maggior cura del solito. Dopo parecchie settimane di trattative con il Kralahome, il tramite del signor Hunter era stato deciso che sarebbe stata presentata a corte dal capitano John Bush. Il console inglese Sir Robert Schoenberg era fuori città e il capitano Bush sembrava la persona più adatta. Era inglese, la sua posizione di comandante del porto gli aveva conferito il titolo siamese di Luang Visut Sakharadit. Comunque, prima che la faccenda fosse sistemata e il giorno fosse scelto, marzo era scivolato via ed era arrivato aprile. Col suo cappello migliore che incorniciava riccioli castani e lunghi guanti di seta nera, Anna fu pronta un'ora prima di quella prevista per l'appuntamento. Ma poi sorse un problema. Louis non volle rimanere a casa e lo dovessero vestire perché potesse accompagnare sua madre. Alle 5 in punto arrivò il capitano Bush sbuffando un po' nella sua uniforme delle grandi occasioni, ma rubicondo e allegro come sempre. Il piccolo gruppo risalì il canale nella sua barca. Louis, stanco e nervoso, conservò un silenzio minaccioso. Una volta si appoggiò alla madre sussurrando «Mamma, ho paura del re!». Non c'è nulla di cui aver paura, fu la risposta della madre a cui lei stessa avrebbe voluto credere. Ma il cuore le si stringeva alla prospettiva dell'udienza con il singolare re su cui aveva sentito tante storie sinistre ed era sola in un paese straniero dove non c'erano i soldati della regina. Il Siam non era l'India o Singapore. Doveva fare l'impressione giusta su questo misterioso potente orientale che i suditi chiamavano il signore della vita senza sembrare né troppo servile né superba. Ma come? Così rifletteva mentre la barca scivolava con regolarità lungo il fiume pieno di attività. Un altri in piedi sulla banchina con indosso delle tonache gialle bagnate strizzavano gli indumenti che avevano appena lavato. Lungo la strada passavano ragazze graziose che reggevano sulla testa vasi d'acqua, covoni di fieno o ceste di frutta. Dignitari in portantine dorate portate a spalla da schiavi sudati si affrettavano all'udienza pomeridiana. In distanza Anna intravide un gruppo di soldati armati di lance che scintillavano al sole. Il capitano Bush, Anna e Louis scesero dalla barca e percorsero uno stretto sentiero fiancheggiato su entrambi i lati da un alto muro di mattoni. Il muro sulla sinistra, imbiancato e merlettato, racchiudeva il palazzo reale mentre quello sulla destra circondava il Wat Bo. Il capitano Bush lo aveva descritto come un Buddha reclinato, un colosso lungo 50 metri e alto una dozzina ricoperto da una lamina d'oro. Le sole dei suoi piedi mostruosi erano coperte da bassorilievi intarsiati di madre perla. Oh, deve vederlo con i suoi occhi. Dubito che in India abbia visto qualcosa che metta più soggezione. Lo farò di certo, gridò Anna, a cui le cose bizzarre procuravano sempre una certa eccitazione. Lasciandosi il tempio alle spalle girarono a sinistra e camminarono lungo il muro del palazzo finché giunsero a una fortezza circolare simile a una cittadella con bastioni, spalti e torri. Entrarono dal grande cancello di legno ornato con smisurate borchie piatte e si trovarono su un sentiero lastricato vicino alla stalla dell'elefante bianco. Poi arrivarono al Wat Pra Kao, il tempio del Buddha di Smeraldo, uno dei più favolosi templi del Siam e cappella privata del re. Anna si fermò deliziata. Le alte colonne ottagonali slanciate verso il cielo, la guglia che si assottigliava in lontananza, le ricordavano il tempio del sole che aveva ammirato a Baalbek. Lui si era estasiato dalle statue e avrebbe trascinato sua madre e il capitano a guardarle tutte se fossero stati disposti. Ce n'erano di bellissime, in marmo italiano, su piedestalli, persino una cerere e un apostolo Paolo, bizzarramente fuori posto in mezzo alle statue in bronzo che raffiguravano divinità armate, agli uccelli con teste umane a strane bestie a quattro zampe. Superato il tempio, passarono in un cortile pavimentato. Una breve camminata li portò al palazzo dell'Amarind. Si fermarono incerti all'ingresso, ma non c'era nessuno ad aspettarli. Gli schiavi li guardavano con indifferenza e quindi entrarono, senza essere scortati, attraverso diverse anticamere, finché giunsero a una più larga da cui si accedeva alla sala stessa. Si fermarono esitanti sul primo scalino in marmo, aspettando un segnale dal funzionario che presiedeva alla porta superiore. Un raggio di sole del tardo pomeriggio illuminava dall'alto la vasta sala e una folla di nobili con vestiti di seta colorati e ricamati d'oro. Tutti strisciavano sui gomiti a testa bassa e fissavano il trono dorato all'estremità della stanza. Là sedeva il re. Era di media altezza ed eccessivamente sottile e il suo vestito da lontano sembrava in tessuto d'oro, con le gambe incrociate, immobile, sembrava intagliato in un pezzo unico con il trono che brillava. Il piccolo gruppo aspettò inutilmente sulle scale, osservando con profondo interesse per almeno cinque minuti. Anna sussurrò al capitano Bush, per favore ci presenti subito, lui si inizia ad essere stanco e ad avere fame. È meglio aspettare, signora, obiettò il capitano. Ma la pazienza di Anna era al limite. Scosse i ricci e prese il capitano per un braccio. Insieme salirono le scale, con lui s'aggrappato a suo braccio ed entrarono nel salone senza essere annunciati. In fila, sul tappeto rosso cupo, giacevano le centinaia di figure immobili dei cortigiani e dei nobili prostrate e mute. Anna provò l'impulso infantile di giocare alla cavallina con quelle figure e di arrivare trionfante davanti all'uomo, impassibile e remoto come un Buddha sul suo trono, che teneva il suo destino tra le mani. Il re li vide immediatamente. Saltò in piedi e avanzò rapidamente lungo la sala nella loro direzione, strillando con petulanza. Chi è? Chi è? Quando li ebbe raggiunti il capitano Bush, sulle ginocchia come gli altri cortigiani eseguì il suo compito. Vostra maestà, la nuova governante inglese, la signora Anna Harriet Leon Owens e suo figlio Louis. Anna fece un profondo inchino con le ginocchia piegate nella posizione da rana che le avevano detto sarebbe stata accettabile. Il re le strinse la mano mentre continuava ad osservarla senza proferire parola. Sempre tenendole gli occhi addosso, iniziò a camminare avanti e indietro sul tappeto con passi rapidi. Metteva un piede davanti all'altro con precisione matematica. Erano infilati in pantofole d'oro con la punta girata verso l'alto e ricoperte di gemme che ad ogni suo movimento riflettevano la luce. Il capitano Bush sussurrò velocemente tra i denti. I fuochi d'artificio inizieranno a minuti, signora, si prepari? All'improvviso il re eseguì la lunga falcata finale e si fermò esattamente davanti a lei a un metro di distanza. Tese il braccio in avanti e le puntò l'indice al naso. Quanti anni ha? chiese con voce stentoria. Anna fu colta di sorpresa. Si era preoccupata per l'udienza e vi aveva pensato molto ma non avrebbe mai immaginato che sarebbe cominciata così. Il senso del decoro le suggeriva che domande così intime sarebbero dovute essere fatte prima dell'assunzione o in privato ma non voleva incominciare con un'offesa al re. La sua mente mulinava. Rispose con modestia. 150, sire. La mano cadde. Sorpreso, dubbioso, il re ricominciò la sua marcia avanti e indietro con rapidi passi irregolari. I piccoli occhi guizzanti scrutarono il viso di Anna con attenzione. Poi si illuminarono. Tossì, rise, tossì di nuovo. Poi ritornò all'attacco. In che anno è nata? Lei fece un rapido calcolo mentale e con espressione seria e grave rispose sono nata nel 1712 vostra maestà. A questa risposta l'espressione sul viso leggermente avvizzito del re divenne estremamente buffa. Il capitano Bush scivolò dietro una colonna per ridere senza cerimonie. Nel frattempo il re aveva ripreso la marcia vigorosa e studiava la faccia di Anna come se avesse voluto impararla a memoria. Poi si fermò. Si girò e colpì velocemente. Per quanti anni è stata sposata? Parecchi anni vostra maestà. Si non farsi superare in astuzia e a non rivelare pubblicamente della sua vita privata niente che non avesse a che fare con le sue qualifiche per il posto di governante. Il re compì sei passi. Si fermò e si mise a pensare. Dopo alcuni minuti di attenta riflessione si girò di nuovo. Poi ridendo corse verso di lei e le chiese triunfante quanti nipoti ha adesso? Tutti risero di cuore. Re, governante, il capitano Bush che emerse da dietro la colonna e quei cortigiani che conoscevano l'inglese a sufficienza per capire lo scambio di battute. Il re aveva vinto la battaglia. Di ottimo umore per averla battuta al suo stesso gioco prese la mano di Anna e le fece attraversare rapidamente tutta la sala delle udienze superando le file di uomini inginocchiati e la portò oltre una porta velata da una tenda. Percorsero un'infinità di corridoi con lui che si aggrappava disperatamente alla sua gonna. Quando alla fine rimasero senza fiato il re si fermò davanti a una serie di nicchie coperte da tende. Sul pavimento dell'ultima era inginocchiata una donna con il viso coperto da una sciarpa. Aveva un corpo da bambina e sembrava una statuina di Dresda. Il re scostò di lato il pezzo di seta che le nascondeva il volto. I suoi lineamenti erano delicati come la figura e molto belli. Lui si piegò le prese una mano e la mise in quella di Anna che teneva ancora nella sua e lì restò morbida senza peso come un uccello morto. Questa è mia moglie Lady Talap presentò. Lei desidera imparare l'inglese ed è tanto brava quanto bella. Sarà nostro piacere farle conoscere l'inglese. Lei la dovrà istruire per noi. Anna subì il fascino del portamento eloquente, modesto e gentile della donna. Sarà mio grande privilegio vostra maestà dichiarò Anna. Mentre il re traduceva la risposta Lady Talap esplose in una risata chiara e argentina come il suono di tanti campanellini. Poi gettò ad Anna un'occhiata che esprimeva una gioia così genuina che quest'ultima ne rimase stupefatta. Era chiedere così tanto studiare l'inglese. Sembrava che Lady Talap lo credesse e per la gioia si prostrò davanti a loro, cosa che fece provare ad Anna affetto e pietà nello stesso tempo. Come era terribile dover dipendere per i propri innocenti desideri dal capriccio di una cavalletta avvizzita come il re. Adesso il palazzo nonostante il marmo, l'oro, i ricchi tessuti, i gioielli e le piastrelle brillanti le sembrò tetro. Anna non sapeva se erano le ombre della schiavitù e dell'oppressione a pesare sul suo spirito o il sole che calava. Ripercorrendo i corridoi il re la condusse verso la grande sala. Dozzine di bambini erano uscite dalle stanze più interne del palazzo. Il re si rivolse a loro con indulgenza ma loro erano attratti da Louis. I calarono addosso chiacchierando, ridendo e gridando. Lui si ritrasse timidamente mentre loro cercavano di toccarlo ma questo li faceva avvicinare di più. Era un'agonia, una tortura quasi insopportabile. Lui si implorò a Anna con lo sguardo ma non c'era nulla che lei potesse fare se non continuare a camminare. Il re rise compiaciuto dallo spettacolo dei bambini. Ho 67 figli annunciò con orgoglio mentre raggiungevano la sala delle udienze e Louis si ritrovò libero. Lei li istruirà per me con tutte le mie mogli che vogliono imparare l'inglese e ho molta corrispondenza con cui mi dovrà aiutare. Abbassandosi verso di lei continuò sottovoce. Io ho molti problemi a leggere e tradurre le lettere francesi. Le copierà per me così è più facile leggere. Anna era allibita alla prospettiva di questa molteplicità di incarichi ma pensò che era meglio tenere le proteste per un momento successivo. La manderò a chiamare più tardi la congedò il re con un ceno della mano. Anna si inchinò e anche lui si accennò con il capo. Poi con il capitano Bush si ritirarono. Anna trasse un profondo respiro. Il palazzo era soffocante nel calore di aprile. Era grata di avere una casa fuori delle mura. Entrare e uscire da quel posto incredibile per insegnarci era una cosa. Viverci sarebbe stato completamente diverso. Il colloquio tuttavia non era andato male anche se era stato strano. Il re le era sembrato ben disposto e di certo non gli mancava il senso dell'umorismo. Era un uomo curioso. Ovviamente imprevedibile e autoritario e doveva essere difficile da soddisfare. Non le dispiaceva lavorare sodo. In effetti per lei era un toccasana. Quando superarono i cancelli del palazzo il capitano Bush stava ancora ridacchiando. L'ha incastrata. Vero signora? Quanti nipoti ha. Era proprio buona. Anche se pensandoci bene non sono sicuro che l'abbia avuta vinta lui. 10. La cremazione di una regina. La convocazione per iniziare la nuova scuola non arrivò. Dapprima il re fu occupato a organizzare la prima polizia civile che la città di Bangkok avesse mai avuto. Il nuovo commissario e il vicecommissario erano due inglesi di Singapore. I 55 ufficiali e agenti erano prevalentemente malesi e indiani. Poi ci fu la cremazione della regina. Le cerimonie dovevano durare una settimana al termine della quale il re avrebbe acceso il falò. Il Kralahom doveva occuparsi della sistemazione di tutti i residenti stranieri che avessero voluto partecipare. Questo significava un gran lavoro per Lady Phan. Il giorno prima delle cerimonie vennero portate al padiglione sul fiume barche cariche di mobili. Vennero appese le tende e stesi i tappeti. Il giorno dell'inizio della cerimonia la casa era in fermento molto prima dell'alba. Fiori recisi vennero messi nei vasi e venne cucinata una gran quantità di cibo. Era tradizione servire agli ospiti una colazione elaborata a qualsiasi ora arrivassero. Il principe grasso nel cui palazzo Anna aveva visto il circo aveva il compito di organizzare il divertimento dei preti e degli ufficiali siamesi. Anna era lieta di essere stata invitata con la famiglia. Era la prima occasione di vedere una cremazione reale e le interessava ogni particolare. Il mausoleo era stato eretto su un grande spiazzo che si estendeva a nord del palazzo reale. Aveva l'effetto elaborato dell'architettura gotica. Al feretro si accedeva da lunghe rampe di scale a est e a ovest. Il corpo della regina era stato collocato in un urna d'oro attorno alla quale era già stata ammassata la legna profumata che sarebbe stata usata per la cremazione. Su un lato della piazza che chiudeva il mausoleo c'era il padiglione reale, su un altro quello del Kralahom. Fuori della piazza si ammassavano a migliaia le persone comuni. Anna scoperse con sorpresa che l'atmosfera era festosa, non solenne come nelle cerimonie occidentali. Dappertutto erano in corso rappresentazioni gratuite e alla sera ci sarebbero stati fuochi d'artificio. All'interno della recinzione c'era un viavai di gente. Preti provenienti da tutto il regno cantavano in coro. C'era un giardino di pietre con fontane e una vasca. Anna si divertì vedendo alcuni preti che vi facevano il bagno incuranti dei passanti. Per parecchi giorni fece avanti e indietro dalla casa del Kralahom. Nei tre pomeriggi che precedettero il giorno della cremazione il re rimase in seduta con i nobili del regno. Verso sera, per divertirsi, gettava tra loro manciate di calcio entro cui erano stati incastonati anelli d'oro e monete. Gli piaceva la mancanza di decoro con cui i carponi inseguivano i premi. Nel padiglione del Kralahom Anna incontrò parecchi stranieri residenti. Erano molto eccitati e facevano ipotesi in gran segreto sui motivi dell'assenza del secondo re. Qualcuno sussurrava persino che la sua bandiera era ancora issata in segno di disapprovazione per la pretenziosità della cremazione. La regina consorte non aveva un rango abbastanza alto e la cerimonia era ancora più fastosa e costosa della cremazione del fratello dei due re avvenuta l'anno precedente. Oh bene, commentò uno dei pettegoli, il re fa quello che vuole, perché no? Tutti sanno quanto fosse affezionato alla regina. Probabilmente solo un'altra mossa per stabilire la successione del figlio. La vera regina è morta dieci anni fa, se non ricordo male, ma una cremazione come questa stabilirebbe la sua posizione agli occhi del pubblico e di conseguenza la posizione del figlio e soffocherebbe ogni speranza per il secondo re di succedere al fratello. Oh, non saprei, replicò l'altro. Mi sembra più gelosia tra i due. Inoltre il secondo re non ha potere. Che altro divertimento ha nella vita se non mostrare ogni tanto un po' di mancanza di rispetto al fratello. E si allontanarono. Era la prima volta che Anna sentiva parlare dei sentimenti tra i due fratelli. Anche se era venuta a conoscenza dell'esistenza della singolare istituzione dei due re dai resoconti di Sir John Bawring, solo il primo re aveva potere. Spesso si trattava di padre e figlio e di solito il figlio succedeva al padre. Ora erano fratelli. Si poteva vedere il palazzo del secondo re all'estremità nord dello spiazzo in cui avveniva la cremazione. Era quasi altrettanto grande, anche se non così imponente, di quello del primo re che si trovava all'estremità sud. Anna non partecipò all'accensione della pira. Avveniva nel pomeriggio del venerdì santo e decise che non era appropriato. Quando, a cremazione avvenuta, non ricevette nessuna convocazione a palazzo, Anna decise di studiare il siamese. Il signor Hunter le procurò un insegnante, un uomo avvizzito che una volta era stato prete. A volte anche lui si fermava ad aiutarle in qualche difficoltà che l'insegnante, non parlando l'inglese, non riusciva a farle superare. Le piaceva lo studio e la sua conoscenza del sanscrito si dimostrò utile permettendole di riconoscere qualche parola siamese per la somiglianza delle due lingue. Quando un pomeriggio si recò dai Matun, loro le prestarono un libro elementare dal titolo Tavole e lezioni di lingua siamese e un Vangelo di Matteo. Il signor Matun aveva rivisto e stampato il Vangelo parecchi anni prima e la signora Matun, a cui apparteneva il libro, aveva scritto sui margini e nello spazio tra le righe le traduzioni delle parole più difficili. Così armata, Anna fece rapidi progressi. Confrontandola con la sua Bibbia in inglese, riuscì a capire parecchie parole e frasi siamesi di cui il suo insegnante riusciva a spiegare il significato solo vagamente. Furono ancora in Matun a fornirle circa 150 pagine di un dizionario che stava compilando un altro missionario, il dottor Dan Beach Bradley e che si dimostrò molto utile. Iniziò a fermarsi a parlare con le donne dell'Arem. Si trattava ovviamente di concetti semplici, stai bene, come si chiama questo e così via. Loro parteciparono al nuovo gioco con entusiasmo, le dissero i nomi degli oggetti della stanza e lei li pronunciava dopo di loro. Aveva buona memoria e ben presto conobe parecchi nomi comuni, aggettivi e parecchi verbi. Fu in grado così di capire qualche parola qua e là quando sentiva una conversazione normale. Ogni tanto riusciva a capire un'intera frase. Scoprì che, vivendo in mezzo ai siamesi, imparava la lingua anche più rapidamente di quanto avesse fatto con l'indostano e il malese. Da Singapore Francis Cobble scrisse che Avis era partita il 16 aprile coi signori Heritage. Fu il capitano Horton a consegnarle la lettera con un pacco della signora Heritage che conteneva una nuova foto di Avis che le fece venire le lacrime agli occhi. C'era anche un biglietto della bambina che diceva «Mamma, per adesso un saluto da tua figlia Avis Leon Owens». Qualcuno stava per entrare nella sua vecchia casa di Singapore. Il socio del signor Cobb si sarebbe recato negli Stati Uniti e il signor Cobb avrebbe agito come vice console dall'inizio di maggio. Anna sospirò. Tutto andava avanti a parte il suo lavoro a palazzo. Il signor Hunter le riferì che Sua Maestà stava per partire per Pechebury, una città su un fiume omonimo a tre giorni di viaggio verso sud che al re piaceva molto. Là, su una catena di montagne, si era fatto costruire un ritiro. 500 schiavi avevano lavorato sotto la supervisione del Kralahom per molti anni. Adesso il palazzo era pronto alla consacrazione. In uno dei suoi templi sarebbe stata conservata una scheggia d'osso che si diceva fosse realmente appartenuta a Buddha. «Come fai il re a sapere che è autentica?» chiese Anna curiosa. «Bene!» la voce del signor Hunter era colma di disapprovazione. «Dicono che quando vi cade il succo della limetta si agita un po' e se si mette sotto la palpebra non irrita l'occhio e questa dovrebbe essere la prova definitiva». All'inizio di maggio il re con il seguito se ne andò in barca. Lui e Anna continuavano a fare le loro passeggiate matutine e serali durante le quali intravedevano scene del semplice modo di vivere della gente di Bangkok. Cucinare il cibo su braceri a carbone, folle di giovinastri che ridevano e si bagnavano nel fiume. Una volta si spinsero fino a comprare dei dolci alla banana passati nella pastella e tostati sul carbone. Anna fu deliziata rendendosi conto che era riuscita a capire il prezzo che le era stato richiesto. Entrambi erano affascinati dal fiume. Era come se tutto il panorama della vita di Bangkok passasse davanti ai loro occhi mentre si tenevano per mano. Sul fiume c'erano centinaia di negozi galleggianti dove viveva la maggior parte della popolazione. Qui si vendevano cose curiose. A volte Anna e Louis compravano delle cianfrusaglie da Mandara Davis. Se si alzavano abbastanza presto vedevano i monaci con le loro tuniche zafferano che si muovevano di porta in porta sulle case galleggianti. All'ancora in mezzo al fiume c'erano giunche che arrivavano da Amoy e Swatou, alcune verdi, altre rosse brulicanti di facchini. Schiavi seminudi o ricoperti di stracci correvano a fare commissioni per i loro padroni. I fedeli sulla via del tempio reggevano vassoi colmi di dolci che portavano come offerte. Una mattina in cui l'aria era quasi fredda si avventurarono oltre i soliti limiti della loro passeggiata che non li portava mai molto lontano dal palazzo del Kralahom. Si fermarono a guardare 40 o 50 falegnami che costruivano barche sotto un lungo rifugio. Luis ne era affascinato. Poi videro dei prigionieri in mezzo nudi in fila con pesanti catene. Sembrava che si muovessero con un enorme sforzo. Ad Anna faceva male guardarli e si sarebbe allontanata in fretta se Luis non l'avesse trattenuta. Gli uomini trasportavano delle pietre da una grossa chiatta legata alla riva del canale. Ogni uomo prendeva una pietra e poi la fila si muoveva lentamente sulla riva sudando e sboffando fino a un punto in cui i muratori collocavano le pietre nella struttura del ponte. La maggior parte dei prigionieri aveva visi duri che esprimevano sfida ma ce n'erano parecchi con facce tristi e gentili. Poveretti, pensò Anna, mi chiedo se gli schiavi dei faraoni lavoravano così sulle piramidi. Lei e Luis rimasero a guardarli per un po', poi un uomo in testa a una delle colonne che aveva appena posato le sue pietre si avvicinò a lui e si allungò la mano ridendo. Lui si indietreggiò ma mise una mano in tasca, ne estrasse qualche moneta che lasciò cadere nella mano lurida che aveva davanti. Quello che successe in seguito fu così inaspettato che Anna non ebbe il tempo di prepararsi. Con un grido tutta la masnada fu loro addosso a mani tese con le catene che sbattevano e li afferrarono gridando fatele lemosina, fatele lemosina. Spaventata sul punto di perdere i sensi Anna non poteva altro che stringersi a Luis. Cercò di aprirsi un varco senza riuscirci. Gli uomini erano dappertutto. Non aveva con sé denaro con cui soddisfare il loro minaccioso fatele lemosina. Il forte odore dei loro corpi la faceva star male. Per un attimo perse l'equilibrio e pensò che lei e Luis sarebbero caduti. Davanti agli occhi sfilarono confuse immagini indistinte e temeva che sarebbe svenuta. Poi, all'improvviso, come se fossero stati colpiti da un fulmine gli uomini giacquero attorno a lei con la faccia a terra. Anna barcollò e trattenne il fiato. Alcune guardie si muovevano tra i prigionieri prostrati agitando pesanti cinghie di cuoio su quella carne umana che prima era sembrata così minacciosa e ora faceva solo pena. La scena era nauseante come quella che l'aveva preceduta. Con un altro profondo sospiro Anna passò rapidamente tra gli schiavi sanguinanti. Posò a terra delicatamente Luis, pallido e tremante ma in buone condizioni. Anna gli afferrò la mano e sollevando la gonna si mise a correre finché ebbe fiato in gola con Luis che le sgambettava accanto. Senza voltarsi a guardare continuarono a camminare con grande rapidità finché, superati il cancello del palazzo e il cortile, si trovarono al sicuro nelle loro stanze. La camera che aveva iniziato a odiare adesso sembrava ad Anna un magnifico santuario. Dopo che Luis e lei si furono tolti gli abiti macchiati dalle mani sudate dei prigionieri e si furono lavati e rivestiti con abiti puliti si sedettero tranquillamente a fare colazione. Anna aprì il piccolo libro di preghiere e lesse il salmo del giorno. Sarei svenuto se non avessi creduto di vedere la bontà del Signore sulla terra dei vivi. Onora il Signore, abbi coraggio e Lui rafforzerà il tuo cuore. Chiuse il libro con la sensazione che quei versetti fossero stati scritti apposta per lei. Bibi portò la colazione ma sapeva di terra e l'atmosfera era soffocante. A fatica inghiottirono perché i loro cuori soffrivano per l'esperienza della mattina. Andiamo via mamma, sopplicò Luis. Torniamo a Singapore, per favore. Grazie. 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 Grazie.